Musica Ciao a tutti! Dunque, in questo primo periodo di Erasmus, io e i miei amici abbiamo cercato di scoprire il più possibile di questa città per capire come trascorrere le nostre giornate e le nostre serate, oltre che studiare. Apro una parentesi sull'Erasmus e sullo studio. Sì, in Erasmus si studia! In effetti questo è un aspetto che ci preoccupa anche un po', perché è stato già abbastanza difficile trovare degli esami che ci fossero convalidati nelle nostre rispettive nazioni. Figuriamoci poi non passarli. E poi qui il sistema universitario funziona in maniera un po' diversa e ci danno molti compiti a casa. Ed è strano perché mi sembra di essere tornata un po' al liceo. Chiusa parentesi. Bruxelles. Secondo me è una città bellissima e io consiglio di visitarla anche soltanto per un fine settimana, perché non è molto grande, quindi non è molto difficile vedere le cose più importanti, che si trovano tutte più o meno nei pressi del centro città. Cerco di fare un riassunto di quello che si può vedere. La Grand Place, nel quale si trovano il municipio, anche l'Hard Rock Café, e la statua di Everard Saltekle, è una statua che tutti toccano perché porta fortuna. Ovviamente il Mannekenpiss, ma anche Jeannekenpiss, che è la bambinetta che fa la pipì, e Zinnekenpiss, che è il cane che fa la pipì. Adorano queste statue che fanno la pipì. È possibile fare la comic trip, cioè nelle strade di Bruxelles è possibile trovare dei palazzi con le facciate dipinte con fumetti. Sono in tutto 28 tappe, se si ha poco tempo meglio non farla, perché fare la comic trip dura due ore e mezza circa. Se si fa attenzione è possibile notare questi scorci un po' particolari. e le Gallerie Saint-Humbert, che è una galleria di negozi, ed è famosa per i negozi di cioccolata, come Godiva e Leonidas. C'è la cattedrale di Saint-Michel e Godoul, che sono i due santi protettori di Bruxelles. E il Delirium Pub, è un pub nel quale vengono offerte più di 3.000 birre diverse. Spostandosi un po', è possibile vedere Royal Palace Park, che è un parco, la Bibliothèque Royal, che è la biblioteca più grande di Bruxelles, dove vado a scrivere la tesi. E spostandosi ancora un po', si trovano la Commissione Europea e il Parlamento Europeo, ovviamente. Dopodiché è necessario prendere la metro per arrivare a uno dei simboli di Bruxelles, che è l'atomo, che fu costruito per l'Expo del 1958. È una costruzione molto particolare, fatta in metallo e con delle grandi sfere, nelle quali è possibile entrare. Dove ci sono alcune proposte di quell'Expo ed è possibile vedere una panoramica di Bruxelles dalla sfera più alta in particolare. Ed è bello passare da una sfera all'altra con le varie scale mobili. L'ultima è anche tutta illuminata, un po' psichedelica. Dall'alto è possibile vedere anche la Mini Europa, che è un'altra attrazione di Bruxelles, sarebbe l'orere per miniatura. È possibile camminarvi dentro, ma dalla primavera, primavera-estate, perché l'inverno è chiuso e quindi l'unico modo per vederlo è dall'alto dell'atomo. Detto ciò, le serate. Oltre che andare a bere la birra all'Eirium Pub, in genere sì, ci sono le feste Erasmus, ma non sono solo quelle. Insomma, sono organizzate tanti tipi di feste diverse. Si beve, ma si beve anche tanto se vuoi bere. Non sei costretto a bere. Ci si diverte e si socializza tantissimo, soprattutto nelle feste private, quelle in casa. Perché sì, si va nei club, ci sono tantissimi tipi di club diversi in Bruxelles. Siamo finiti anche in un club latino-americano, perché il ragazzo lituano è un campione di samba, al Cartagena. E poi siamo finiti in un gay club. Ce ne siamo accorti quando abbiamo visto che i camerieri erano alti due metri vestiti da cheerleader. Però, come dicevo, mi piacciono molto le feste in casa, perché spesso è possibile trovare tantissimi studenti. Sono andata in un residence che era solo abitato da studenti. E si parla di tutto. Da argomenti più frivoli, come il brindisi nelle diverse lingue, o diversi giochi con l'alcol. Ad argomenti serissimi, come la disoccupazione, le problematiche del proprio stato, della propria nazione d'origine, il macello che sta succedendo in Ucraina. Si parla veramente di tutto. Anche di problemi esistenziali, o di come ci sentiamo qui, in Erasmus, fuori, a lontano da casa, dalla patria, insomma. Ed è interessante vedere come veramente la pensano le altre persone. Di nazionalità diverse. Apre la mente. Piano piano questa realtà sta diventando anche la mia realtà. Insomma, tutto mi è molto più familiare, mentre all'inizio di questa esperienza mi sentivo un po' fuori luogo. E comunque vedremo un po' l'evolversi di questa esperienza. Per il momento è tutto. Ciao! Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!